Allora, noi andiamo o restiamo? Restate con me, che in modo presentiamo proprio questo nostro amico, quest'altro artista che da anni canta, da anni è sulla scena tra teatro, musica e canzoni. Signore e signori, Franco Manna! Eccolo qui! Grande Franco Manna! Grazie, solo due parole, grazie a Raffaele Modà e a Meri Fabrocino per questa bella iniziativa, dovevamo stare all'ospedale, ma forse è stato bello farla qua e poi saremo presenti all'ospedale con i doni. Una sola canzone perché volevo solo salutare e scappare, ho un altro impegno, facciamo questa canzone e poi ci salutiamo. Grazie di avermi invitato! Ser Patrone, vai Franco Manna! Ser Patrone, vai Franco Manna! Patrone, vai Franco Manna! Quando tu fai la pena, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Grazie a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. a Raffaele Modà, mi manda tanto bene, non trova più a me. Ma noi lo coinvolgiamo ancora per un minuto, perché questo troma è per te. Lo leggo! Un sorriso con la musica, evento di solitarietà, umano e sociale, attestato di stima e riconoscimento a Franco Manna per aver contribuito all'evento, donando il proprio sorriso sincero ai bambini bisognosi. Gli organizzatori dell'evento, Mery Fabricino e Raffaele Modà. Grazie onorato, un ringraziamento al sindaco. Ciao ragazzi, un bacio. Grazie a te Franco Manna, grazie. Grazie Franco. E adesso Mery, Raffaele, ci divertiamo tutti insieme. Quando tu muovi bene, mi attacca a sto bene e non trova più a me. E ringrazia che ti attacchi solo al bene. No, ma dico, ma non è che poi lo ritroviamo a lui in qualche modo. È bello, è bello perché lui ha il primo evento e questo deve essere lo spirito, Mery. E io ci auguro insieme a te che ne farà tanti, ma tanti, tanti, tanti altri. Ma sicuramente. E devi chiamare sempre questa squadra, Raffaele Modà. Una squadra di fumo.